Lorenzo Insigne tra poco in campo Anselmo intanto è fuori, Napoli però riesce a tenere palla perché Anselmo si è ripreso, ritorna in campo quindi ristabilita la parità numerica adesso si può andare a giocare con Fernandez che va su Amsic, mette palla a Amsic, scatta Lorenzo Insigne Amsic tiene però il pallone, preferisce il tocco ravvicinato per Berano poi indietro su Gamberini e il flaco Federico Fernandez Maggio, fallo di Dossena su Maggio, calcio di punizione per il Napoli ed eccolo qua, l'ingresso in campo di Roberto Insigne l'uscita di Marek Amsic gli applausi di fuori grotta per Marek che c'è della fascia di capitano a Cristian Maggio freccia azzurra con la fascia sul braccio e c'è la famiglia Insigne che corona un sogno vedere entrambi Lorenzo e Roberto giocare con la maglia azzurra del Napoli in Serie A Fernandez verso Maggio verso Insigne la finta di Roberto su Garzia che viste in gioco con le mani per il Palermo tre minuti più recuperato al termine ancora il Palermo che viene in avanti con Aronica, pallone lungo, Vincoli non ci arriva vuole recuperare la difesa azzurra con Gamberini che lascia il pallone a De Santis De Santis che scambia con Flaco, Music, Fernandez su Lorenzo e ti parla a terra Lorenzo ancora Hiller Roberto dietro ancora sul Fernandez sul secco poi Lorenzo Hiller guardate qui la patronanza di palleggio da parte di Gugganin Zuzù Zuzù ancora uno dribbio un altro il tocco di prima di Insigne al centro Cavani però tagliava verso l'area di rigore con Morganella su Donati Donati ancora in avanti